Ottanta ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado paritarie del territorio sono stati coinvolti nei Real Games, laboratori proposti dagli insegnanti del liceo scientifico sportivo Giannelli Campus di Chiavari per scoprire le loro competenze allenando il corpo, ma non solo. Abbiamo proposto la pallavolo, abbiamo proposto un laboratorio di quiz sulla cultura generale, un laboratorio di matematica e fisica, un laboratorio di lingua, quindi andranno a capire un po' meglio alcuni testi con la nostra docente linale, un laboratorio di inglese e un laboratorio un pochino più ludico che noi abbiamo chiamato Just Dance, Balla che ti passa, in modo tale da farli un pochino muovere che poi è anche un po' lo scopo della nostra giornata. Munca di due attività all'esterno a causa della pioggia, la giornata dei Real Games è strutturata per far capire a studentesse e studenti l'offerta formativa della scuola, basata sulle materie scientifiche e sull'informatica, oltre che sul potenziamento dell'educazione fisica. Chi fa sport, secondo noi, ha anche dei valori all'interno che riguardano la sua persona e il suo modo di essere, per cui abbiamo pensato di unire una parte più teorica, una sportiva, per far capire qual è lo scopo della nostra scuola, unire queste due cose che sono fondamentali per continuare l'attività e la didattica sportiva. Dovremmo imparare forse più spesso dallo sport a voler vincere nella vita, stanno tutti insieme rispettando le regole. È bella questa cosa che rispettando le regole ci si può divertire, è una grande notizia che cerchiamo di dare ai ragazzi qui a scuola e nella vita e sì, a volte si vince anche. Purtroppo a volte c'è anche il pareggio e la sconfitta. Penso che sia una bella testimonianza vivendolo sulla propria pelle. Noi sono diversi anni che veniamo ospiti di questa bellissima scuola, siamo molto contenti, i ragazzi pure fanno una mattinata un po' diversa e comunque iniziano a rendersi conto di una scuola superiore, una bellissima esperienza per noi. Incuriositi e attenti, i ragazzi si sono lasciati coinvolgere nelle varie attività. C'erano le terze medie di Maria Luigia, Santa Marta e Gianelli di Rapallo, tutti coinvolti in questi giorni in un tratto di strada che li accomuna la scelta della scuola superiore. È difficile scegliere oggi e sappiamo che quando si sceglie si può far bene, a volte si sbaglia anche. Bisogna avere il coraggio di farlo. Anche qualora i ragazzi possano rendersi conto che magari hanno scelto la scuola non adatta a loro, come succede nelle nostre scuole, non è un fallimento, è semplicemente un constatare ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tutto noi stessi, è anche prezioso poter cambiare idea nella vita.